Con Alfonso Miosi ritorno alla vittoria, non soltanto in trasferta ma in campionato in generale per l'Atletic. Se già contro lo Sporting si erano viste delle cose molto incoraggianti, oggi possiamo dire che c'è stato un ulteriore salto di qualità. Sì, oggi sono contento perché abbiamo fatto una grande vittoria in un campo rognoso dove diverse squadre ci hanno perso punti e quindi sono veramente felice per questo risultato che ci dà continuità di risultato visto che abbiamo pareggiato con la prima e in più ci dà una carica in più per affrontare le ultime quattro partite. Tra l'altro oggi hai potuto ruotare forse quello che è il roster definitivo con gli arrivi di Intravaia e Restivo, un po' di ossigeno dopo tante settimane con la squadra decimata. Sì, parlando questa settimana con la società abbiamo affrontato il discorso infortuni, quest'anno ho avuto la rosa al completo solo quattro volte, però dico dettagli, uno gioca e affronta le partite con gli uomini che c'ha. Io fortunatamente ho una rosa e dei ragazzi stupendi, chi entra in campo entra per vincere. Certo, avere qualche giocatore in più in qualche partita, anche oggi ci mancava Mazzola ad esempio, il portiere titolare, però fortunatamente abbiamo fatto bene, abbiamo retto bene il campo, abbiamo fatto la superallena attiva, abbiamo tenuto bene la palla, loro comunque gli mancava qualcuno, però sono un'ottima squadra soprattutto in casa, quindi sono felicissimo. Ecco, mi hai dato l'assist, visto che hai nominato Mazzola, ti nomino io, fa valoro da ex portiere, ti faccio la domanda oltre che da suo allenatore, poi una piccola curiosità, cosa hai pensato quando ha fatto quell'uscita a palla al quarto secondo, ha avvarcato la metà a campo e si è preso anche un bel fallo? Tu calcola che noi portieri siamo pazzi, il primo io, quindi per me è normale l'amministrazione, se perde palla poi lo uccido, però si è preso pure la punizione, quindi non gli dirò mai niente. Io e i miei ragazzi in fase offensiva, dico è il portiere, però in fase offensiva i miei ragazzi li lasciano abbastanza liberi, gli do qualche principio, ma poi fanno tutto loro. Lui ha visto che era aperto, io ho sempre detto che quando c'è spazio aperto il portiere deve scendere e addirittura stava andando a fare il gol, quindi bravo lui. Chiusura sul prossimo avversario, altra trasferta abbastanza lunga, si gioca a San Vito, campo totalmente diverso da questo qui di Agrigento, avversario rognoso, tanta esperienza, anche ex da una parte e dall'altra, che partita ti aspetta? Sarà un'altra battaglia, all'andata abbiamo pareggiato, loro hanno vinto oggi mi pare con gli Etinainers, campo piccolo, sintetico, quindi ci aspettano un'altra battaglia, ovviamente noi abbiamo detto ai ragazzi che se nell'eventualità si fanno i playoff dipende anche da noi, ma noi li dobbiamo vincere 8-4, proviamo a vincere le 8-4 già da sabato prossimo, se ci riusciamo bene siamo bravi, altrimenti diamo la mano agli avversari. Con Rosario va da là, ritorno alla vittoria per l'Atletic, oggi l'hai seguita dalla panchina, che squadra hai visto? Ho visto finalmente una squadra che il mister ha potuto girare a quasi pienezza di organico, mancava il portiere titolare però gli altri c'erano tutti, quindi ho avuto la possibilità di fare delle rotazioni importanti, che forse è quello che è mancato in questa fase della stagione con un organico spesso decimato tra infortuni e squalifiche. Oggi eravamo quasi al completo e si è visto perché la rotazione è stata importante. Ecco da questo punto di vista per te che comunque sei stato uno dei costruttori di questo roster, la soddisfazione da una parte nel vedere finalmente la squadra al completo, ma anche forse il rammarico nel dire la stiamo vedendo al completo quando mancano quattro giornate alla fine. Sì, è vero, sono vere tutte e due le cose, ma io guardo il bicchiere mezzo pieno, guardo che siamo arrivati a un momento cruciale della stagione al roster completo e allora va bene così. Certo a me tocca fare l'analisi, al mister tocca mettere in campo. Nel mio compito c'è di capire cosa si deve migliorare il prossimo anno per essere al completo sin dall'inizio della stagione. È una stagione che se ti ricordi nelle prime interviste che tu quest'anno mi hai fatto, dicevo siamo un cantiere. Siamo partiti tardi, è una formazione fatta da zero per cui ci sta che adesso raccogliamo dei frutti che potevamo raccogliere prima, ma è una stagione che sapevamo si preannunziava difficile, adesso cerchiamo di dare l'accelerazione finale. Non dipende solo da noi, come ha detto Pocanzi Miosi, abbiamo detto ai ragazzi noi dobbiamo metterci il nostro. Se noi riusciamo a portare a termine il nostro compito, a prescindere del risultato finale, avremmo fatto un'ottima stagione e sono questi i presupposti per cui il presidente e la proprietà ci avevano chiesto di fare. Chiudiamo col prossimo avversario, si gioca a San Vito, un mix questa squadra perché ci sono coach Basile, c'è Allegra in campo che è il vecchietto terribile di questa squadra, anche tanti giovani interessanti, molti palermitani, che partita ti aspetta? Sì, è quasi un derby, nel senso che molti palermitani là, alcuni ex da noi, è una partita che già all'andata era stata una bella partita e San Vito si è visto che è un'ottima squadra, l'abbiamo sempre pensato, oggi ha vinto pure fuori casa. Campo difficile, squadra difficile, una trasferta completamente diversa da questa, sia per la location che ci ospiterà, sia perché il San Vito è in piena salute in questo momento, per cui però noi non ci rimane altro che andare in tutti i campi, da qua a fine campionato e cercare di vincere, questo è l'obiettivo, poi sappiamo che la palletonda accetteremo qualunque risultato, il nostro obiettivo è fare bene, credo che in questo momento la classifica parla che abbiamo fatto bene, e speriamo che alla fine parlerà ancora meglio.